a posto una delle 6 medaglie d'oro che la nazionale italiana ha riportato da Glasgow, 22 le medaglie totale 5 agenti 11 medaglie di bronzo record per il nuoto al campionato europeo assoluto in questa edizione di Glasgow passiamo alle ultime bracciate la terza batteria 160 al cadetti 51,05 Alessandro Miresi la vince top mati tempi della terza batteria vediamo ora sul tabellone elettronico che ha messi alla finale di questa gara ultimo tempo utile quello di Mattia Mosconi viene come 52,11 alla partenza della terza batteria delle 6 medaglie 100 fletti per gli maschi grazie grazie